buongiorno a tutti siamo a francoforte al ristorante terra nova con antonello buongiorno noi siamo qua due proprietari con il mio socio angelo oggi purtroppo non può essere qua perché è in ferie nel vostro ristorante cos'è che fate poi di cibo di pizza diciamoci che noi più che altro rappresentiamo l'italia facendo le cose molto tradizionali come la pizza la pasta pesce carne un po internazionale anche perché dato che siamo in germania cerchiamo di fare una cucina anche un po internazionale perché qua francoforte ci sono molte molte paesi del mondo e cerchiamo di rappresentare un po tutti diciamo così facciamo molte cose fresche diciamoci da noi per noi prodotti diciamoci una buona cucina e oggi ci racconta antonello perché ha deciso di fare questo luogo in ferro che abbiamo realizzato proprio settimana scorsa che ha significato a al centro del mappamonto c'è l'italia che ci rappresenta qua in germania per la fatta della gastronomia per altre cose secondo me un grande capolavoro perché lavorare con il ferro con l'acciaio non è facile abbiamo visto che quando un grande lavoro questa insegna qua è fatta da due ferri diversi questo ferro normale che col tempo si arrugginisce e avrà ancora un effetto più particolare e invece l'acciaio che vedete davanti è l'acciaio inox che rimane sempre così come lo vedete quindi con due questi ferri diversi ci sarà un effetto molto particolare che vi farò vedere negli anni successivi tu sei soddisfatto dei lavori che ti ho fatto perché abbiamo fatto anche a parte il logo in ferro anche l'insegno fuori che mostrerò tra poco anche la tavola rotonda del del legno che abbiamo applicato sul muro poi anche i vari acrilici con le stampe ma anche i biglietti da visita e anche tante tante altre cose sì noi lavoriamo con dimitri da due anni abbiamo fatto molto lavoro di tra ditta di dimitri è una ditta molto seria tutti i lavori che sono stati fatti sono stati fatti con molta professionalità nell'ambiente gastronomico si deve lavorare sempre con professionalità come vedete che lui ha mostrato tutti i lavori che ha fatto di addirittura di dimitri sono tutti lavori fatti veramente con professionalità grazie antonello allora io non vedo l'ora di fare il prossimo lavoro voi faremo faremo di sicuro grazie 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 grazie